ma ciao e bentornati in un nuovo video oggi assaggiamo insieme il dessert di Lidl della linea deluxe ma tutto questo dopo la sigla voglio accontentarvi in questo video assaggiando insieme a voi questo dessert che vi ho presentato qualche giorno fa in un video vi è piaciuta l'idea che è contenuto in un bicchiere di vetro e che può essere riutilizzato per fare magari delle ricettine sfiziose, non lo so magari il tiramisù per il caffè o semplicemente per riproporre la colazione fit di cui vi ho già fatto la ricetta in un video passato e portarvela con voi perché questa è la dimensione perfetta per portarvi dietro il vostro snack andiamo ad assaggiare il dessert al lampone come è fatto questo dessert? Lamponi, panna e biscotto andiamo a gustarlo ragazze tolgo subito il coperchio questo lo conservo in modo tale da poter poi trasportare il bicchiere con quello che andrò a mettere all'interno cucchiaio pronto, vado a definirvi il sapore fa-vo-lo-so in pratica è una nuvola al palato leggera perché al centro vi è questa panna si va ad equilibrare con il sapore del biscotto e la glassa di lampone ne prendo un altro po' per definirmi meglio il tutto buonissimo buonissimo veramente per un euro io andrò a prendere altri di questi e mi farò una collezione di bicchieri perché con un euro ho sì un dessert ma mi rimane anche il bicchiere da poter riutilizzare quindi cari amiche, amanti dell'idol, della linea deluxe, dei dessert vi consiglio di provare questo qui al lampone e io l'ho comprato anche al mango oggi abbiamo gustato di fronte alla telecamera questo al lampone e per me è buono e lo ricomprerei bene ragazze fatemi sapere se volete altri video del genere dove vi mostro una novità e poi l'assaggiamo insieme in telecamera vi mando un bacio grande e grazie 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 per i commenti per il supporto e per i pollicini in su ciao vado a farmi la mia passeggiata giornaliera con l'obiettivo di arrivare a 10.000 passi e il resto me lo angusterò come premio di aver fatto la brava grazie a tutti